Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video dove la facecam si vede di merda, grandi ragazzi, sempre i migliori siete Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio dell'Elimination Nazolock a Pokémon Rosso Fuoco Signori miei, prima di iniziare, volevo però fare una precisazione Infatti nello scorso episodio ho visto tantissime persone scrivere nei commenti il Pokémon che volevano eliminare Ora io non so se voi diciamo votate prima nello Stropole e poi scrivete quello che avete votato nei commenti che ci stava benissimo Però ci tengo a precisarlo nel caso non fosse così per alcuni che non dovete votare nei commenti Perché i voti nei commenti non sono contati non perché sono cattivo io ma perché non posso selezionare, non posso capire facilmente chi vince e chi no Per votare troverete lo Stropole in descrizione, Stropole in descrizione che vi permetterà senza iscrivervi a nessun sito È una cosa veramente banalissima Premete il link che vi mostro con scritto di fianco Stropole per le votazioni o robe del genere Andate lì, selezionate quello che volete votare che sia un Pokémon o la casella vuota E poi uscite e quella sarà la vostra votazione A proposito di votazioni, nello scorso episodio avete deciso con magnanimità di votare in massa la casella vuota E quindi per questa prima votazione non ho perso nessuno Grazie, grazie, grazie Detto ciò possiamo proseguire? C'è un cursore in mezzo al cazzo come al solito Signori miei, io non ho preso i repellenti Sono un coglione, sono un depravato mentale E non ho voglia di tagliare Sì, sarò sincero, non ho proprio voglia di tagliare Proprio mi sale il nazismo E quindi voi vi sorbirete questo minuto di video In cui io currerò i Pokémon per motivi arcani Dovevo prendere i repellenti, signori miei Questo episodio inizia nel peggior modo possibile Allora, prendiamo un repellente Vendiamola MT, mannaggia me Inizia davvero di merda questo episodio Con la fortuna che ho qua, oggi finisce la serie, signori miei Comunque, visto che la serie vi sta piacendo a proposito Vedo soprattutto una grande partecipazione a livello di commenti La cosa mi fa davvero piacere Perché era effettivamente quello che volevo Sia una buona partecipazione da parte vostra E un'interazione tra me e voi Detto ciò, Monteluna Siamo pronti per la cattura, signori miei Allora, prima prendo questa MT che è Canto Ottimo Qua se non sbaglio c'è un altro strumento Ma prima Brilom Brilom come cattura Che Obiettivamente non so se sia buono o meno Allora io farei una cosa Attrazione Aerocolpo Merda Allora Il punto è che io non posso indebolirlo Sto coso Quasi preso Attacco da Merda E qua se switch Lady Bird Mi sa che lo prendo nel culo uguale Però eh Proviamo un calcio rulo Eh però fallisco Eh Una bacca stagna Relicant C'era anche Signori miei Relicant Ottimo Pokémon Devo ammettere Charmander Perfetto Iniziamo subito con la Prima gen proprio così Di arroganza Forza antica No stai fermo E nulla signori miei Dicevo che probabilmente Se non l'avessi shottato Quel coso lì Mi avrebbe shottato a me E Mannaggia A questo Bloodsy Ken Oddio Non ci credo L'avevo già dato Per morto Cioè per me era già morto Sto coso Vuole imparare l'assorbimento No 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 Radicamento è meglio La La L'avevo già dato Per morto Ok No Ho sbagliato Dovevo andare a curarmi Ah ok Ciccolità Ciccolità Cioè Ok perfetto Ho avuto Ho avuto Non sapete quant'ansia ho avuto Nel fare quella mossa Allora andiamoci a curare Signori miei Mamma mia Che infarto Subito inizio episodio Sono passati solo 4 minuti Ok Perfetto Iniziamo bene Allora direi Di esplorare tutto il mondo Io la strada Signori miei dovete sapere che la conosco a memoria Ma davvero Ma davvero Cioè Blaziken Torgic E io Con Baskan Ok No dicevo Ah ok Prendiamo su cosa Una bandana Perfetto Io signori miei Il monte luna Lo conosco A memo Dicevo Io il monte luna Lo conosco A memoria Ma signori miei Insomma Vorrei esplorarlo Decentemente Perché tanto abbiamo tempo Calciarullo Nel frattempo Ursaring a casa Un altro Ursaring Wow Che novità Non l'avrei mai idea Tetano È risorto È risorto Signori miei Cioè Mo' è morto di nuovo Però È tornato Tetano No dicevo Il monte luna Lo voglio esplorare tutto Perché voglio allenarmi Dato che comunque Abbiamo già perso Tre pokemon Abbiamo solo due Non è conveniente Rischiare di morire Allora Qua Allora Qua è sicuramente La strada sbagliata Sono sicuro al 100% Signori miei L'hashtag Qua sotto Hashtag SEMAFORO È tornato anche lui Qua c'è la svendita Di C Corrita L'Iper Andiamo a L'Iper Con Antonio Saluta Baccalici Cioè Baccasalac Cioè Baccalici Perché Cioè È Delle alici Cioè Dei pesci No Non so se avete capito Il simpatico riferimento Calmamente Calmati Nella tomba Ciao È stato bellissimo Livello 19 Per nugget Perfetto Roselia Che pokemon forte Mamma mia La potenza Fatta A fiore Fango Giù anche lui Perfetto Ok nugget Li sta aprendo tutti Signori miei È il devasto sto pokemon Qua dovrebbe esserci una caramella rara Che è diventata Una fottuta bacca prugna Che bella la vita Solo bacche trovo Ok Sì questo qua me lo ricordo Che diceva sta roba Repellente Mi sta già per finire Sta già per Finire il repertorio Di insulti Allora dai Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa è tu Weedle Attenzione Proprio lui Geloraggio E questo dovrebbe andare a casa Perfetto E cosa Cosa è Ah ok Sensdry Perfetto Se fossi formalola Saresti resistito Sì sì È giusta la sintassi Perfetto Sapete che io mi faccio sempre Ste paranoie Sulla sintassi Che a volte sono esagerate Ma signori miei Sono importanti Affrontiamo come al solito Il team rocket Che ha un altro Raik Un altro leggendario Va bene così Va bene così A noi piace così Piace soffrire con i leggendari Non ti azzardare mai più A fare extra rapido Miltank Gli incubi Gli incubi Questo è il karma 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 Ma ha fatto attrazione per sempre Adesso si innamora di me Questo è karma Questo è karma È karma Godo Godo Non ho mai goduto così tanto Neanche quando ho battuto la Lega Neanche quando ho seccato Gekis Mai Cos'è Non l'ho letto Non l'ho letto mai Sappilo Flagello Signori miei È successo davvero È successo Davvero Io non ci voglio credere Rido tantissimo Cos'è sta Sta invasione Di tetani Stavo per dire Vaioli Ok Venomot a casa Vaiolo Purtroppo raga In questa gen non c'è Mi dispiace tantissimo per lui Io Conto ancora nel trovare Merda Come selvatico Voi sapete benissimo Ve l'ho già detto Che Buongiorno E passiamo oltre Vi ho detto appunto Che nelle mie serie C'è sempre la merda Close Che praticamente Se lo trovo Signori miei Lo devo mettere in squadra Anche se non è cattura Che cazzo mi copi le mosse Maledetto Mi rubi format Stronzo Madonna Fai video solo per visual Anche tu Fai video solo per visual Ciao Tutti morti Perfetto Possiamo proseguire Qua c'è lo strumento Tanto no È una bacca Fisso È una bacca Per forza Adesso proviamo con la psicologia inversa Se dico che è una bacca Sarà una master ball È una bacca È una bacca Zinco Quando non è una bacca È una merda Perfetto No ok Ma mi piace la vita Proprio Cioè è proprio appassionato Di vita Magcargo Perfetto Che c'è probabilmente Cioè è un cargo Quindi trasporta cose Insomma Ladybird livello 41 Il pokemon con le statistiche Peggiori di sempre Su Unkern E cioè Non è ironia questa È effettivamente vero Il pokemon con meno statistiche Di sempre Che voi ci crediate no Anche il fottuto Magikarp Ha più statistiche di sto coso Ok Non sto velocizzando Signori miei Perché sto Quasi contando I passi da fare Perché mi sta finendo Un repellente Ho paura di finire In un trip allucinogeno Fatto di relicant E bestemmie Questo mi sta facendo soldarraggio Non è che mi sciotti Vero Ok perfetto Pugno spine Ciao è stato bello Kinglet Tra l'altro Ce l'avete presente Quel sito che fa le fusioni No Ecco Se voi Se voi Fondevate Penso perché Non credo succeda Ancora No sto sbagliando Tutto qua Se voi Avreste Fuso Si si dice così Se voi avreste Fuso Eat Eat Eatmonlee Con Kingler Sarebbe venuto fuori Un pokemon Chiamato Hitler Quindi Grandi Programmatori Sempre i migliori Jigglypuff Nel frattempo Boh Ti sfangazzo la faccia Perfetto Growlite Ole Giù anche lui E il prossimo sarà Attenzione Guarda Gesù Cristo Fin di foglia Si si Con le sue foglie Proprio Quelle belle Da cui si ricava la weed Proprio Giusto Giusto Ok Io non so quale prendere Prendo le elix fossile A caso Tanto non li ho mai messi In squadra Sti cosi Muori Figlio di puttana E io ovviamente Ho trovato Chi Brilo Acqua magica Perfetto Ma l'acqua santa Mi ci vuole Per andare avanti In sta serie Non tanto L'acqua magica Comunque Allora Qua ci sono I due Mastri Tirapugni Qui Non so se Fammi insegnare Le mosse Aspetta Fatemi controllare Un attimo Innanzitutto Le statistiche Lui ad esempio Non sarebbe malaccio Insegnargliene Qualcuna Però in realtà Ho due pokemon Con dei moveset Spettacolari Sapete Cioè Vale la pena Dare due Mosse Di tipo Normale Alla fine Attrazione Raga Me la tengo Perché Tra l'altro C'è sto Pocon qua Davvero Attrazione Con incantevole Che culo Di merda Vabbè Detto ciò Qua forse C'era qualche Bacca Nei paraggi Vero Dai bacca Vieni fuori Vieni fuori Spetti Di giocare In panchina Eccolo qua PP Max Perfetto Ho come l'impressione Raga Che tutte le bacche Sia state randomizzate Come PP Max Non vorrei sparare Una cagata Qui abbiamo Doppio calcio Come MT Che vabbè Non è così male E signori miei Pronti per la cattura Perché Sì Oh Non ho preso la mappa città Non ho preso la mappa città Da quella maledettissima Sorella di Gary Allora Fermi Fatemi controllare qua Un attimo Allora Prima di fare cagate Percorso 4 Sì ok Quello era il percorso 3 Ole Possiamo farci La nostra bellissima cattura Signori miei Chiudiamo gli occhi Tutti insieme Chiudeteli insieme a me Oddio Non mi sembra schifo In questi momenti Capisco quelli che vogliono L'aborto E ma come lo chiamo Sta cosa Sta cosa Sto cosa Sei maschio o femmina Dio mio Soprannome Cascun Non me ne vogliate Vi prego Non disiscrivetevi Non fatelo Raga vi giuro Non sapevo come chiamarlo Fatemi vedere Come è acconciato Sto cosa Ok Allora Lo vedete in sidebar Gli do Il condividi esperienza E vediamo Di farlo evolvere In questo episodio Ora potrebbe evolversi Sia in Beautifly Che in Dustax Ora Fanno cagare entrambi Quindi non è che Ho queste grandi preferenze Però Boh Dustax mi sembra Un pochino più cazzuto Nel frattempo Piliamoci Un po' di roba Un po' di roba buona Tipo 3 super pozioni E Repellenti per ora Non mi servono Direi di prendere 5 pokeball Che adesso dovrebbe esserci La cattura Anche Di sopra Cioè sopra Il monte Il monte pepita Chi cazzo sono Frost 26 Questa la può cogliere Lui Sì avremmo due percorsi Tecnicamente In cui fare la cattura Siamo a 13 minuti Direi di fare Molto velocemente Il monte Ma prima C'è la battaglia Con il rivale A cui non ho assolutamente Pensato O affronto misti Facciamo che raga Affronto il rivale E poi affronto misti E monte pepita Lo facciamo nel prossimo episodio Direi che si può fare così Così almeno Evolviamo Kasun Abbiamo una Ok vai giù Ti prego No Abbiamo una mano in più Nel caso Per la palestra Ed è tutto bellissimo Dasclops Madonna raga Questo qua Ditemi se anche voi Faceva sclerare Quando ce l'aveva Esther Super 4 di Owen Mamma mia Sto cosa qua Proprio non lo potevo sopportare Signori miei Visto che Evidentemente C'è gente che Riesce a prendermi in giro Per il fatto che dico Signori miei Ma vabbè Non mi dilungo in particolare Su questa faccenda Faccenda che Sul gruppo Telegram Molti conoscono Qua forse Un po' meno Ma non verrò di certo A parlarne qui Meanwhile Nugget è stato avvelenato Ma Kaskoff Si evolve Attenzione diventa Dustax Va bene Meglio Dustax Che Beautifly Comunque Il rivale L'ho chiamato Come Blue Vero Sapete che Non ne ho idea Come cazzo L'ho chiamato Il rivale Come l'ho chiamato Il rivale Come diamine Ho chiamato Il rivale Gary Gary Ok L'ho chiamato Gary Perfetto Minchia Mi è venuto Un infarto Non capivo Come cavolo Potessi averlo chiamato Vabbè Comunque Siamo a 14 minuti 15 diciamo E iniziamo Ad affrontare Gli allenatori Di questa palestra Massimo ragazzi L'episodio sarà un attimino Più corto Sarà sui 20 minuti Che poi in realtà È il Ah che sono Sti switch Comunque GG Mi è piaciuta La tua idea Ciao è stato un piacere No dicevo In teoria Io i video Li vorrei fare Sempre di 20 minuti Circa Poi vabbè Mi capita Che mi dilungo E arrivano fino a 30 Quindi meglio Che secondo me Almeno Penso che anche per voi Vedere un video Di 20 minuti Sia più semplice Che vederne uno da 30 Comunque non ho visto le mosse Era meglio Se non le vedevo Perfetto Allora Iniziamo ad affrontare Anche questa tipo qua Nel frattempo Signori miei Dopo un po' di tempo Che non lo facevo Drinkata tattica Intanto pugno spine Doppia sberla Megacorno Questo coso qua Non va giù Ok perfetto Come non detto Ritiro tutto Caskoff Livello 14 E ora possiamo affrontare Misty Prima però Prima però vado fuori Aspettate No ma ce l'ho Una pozione Vero Non vado a rompere Le balle all'infermiera Non ho pozioni Vado a rompere Le balle all'infermiera Che bello Ciao Joy E' stato un piacere Olè Perfetto Allora Vado a vedere ragazzi Se ci sono delle pozioni Al market Più che altro Se ho aumentato Il mio monte In gaggi Ok perfetto Ne ho un pochino Di più Olè Allora Siamo a 4 super pozioni Conto di farcela Contro missy Non dovrei avere Sti grandi problemi Spero Cheat Adesso mi ammazza tutto Ciao Non ti ho mai visto Da queste parti Gli allenatori professionisti Devono avere una strategia Per il loro pokemon Come ti comporti Quando catturi pokemon La mia tattica Di attacco totale Con pokemon Di tipo acqua Di pokemon Altre 403 volte Mi raccomando Nel frattempo Mi cadono le cuffie Così a caso Sandslash Perfetto Sputato sulla tastiera Mamma mia Queste cose belle Idropompa Mi si blocca La rom Perfetto Don fan Davvero me la stai Mettendo giù Così No C'hai siccità Se sei merda Nell'anima Con siccità Raga Idropompa Non gli fa nulla Penso Non me la rischio Raga Che poi questo qua Va vita rossa E sicura Evidentemente Non serve La vita rossa Brutto colpo Dub Peccato che non c'è la Mussolini In giro A subirsela Megacord E giù Don fan Perfetto Caskoff Livello 15 E olè Battuta Misty Allora dammila Emettibella Non è Idropulsar Me lo sento Sento che la morte Mi sta prendendo Tra l'altro signori miei Non so se avete notato Il fatto che Ho Fra virgolette Quasi Accato La Roma Nel senso che Adesso Ho sbloccato La possibilità Di correre Con le scarpe Da corsa Anche all'interno Del centro Poco Cosa che Sapete bene Nei primi giochi In particolare Se non sbaglio Fino alla terza generazione Non era possibile Quindi nulla Spero che la cosa Vi piaccia Non vedo come possa Non piacervi Allora In questa città C'è qualcos'altro Da fare Sì Qua sono abbastanza Convinto Che ci sia Non è che sono convinto Sono sicuro Alcetto Grande perla Ok Questa la posso andare A rivendere subito Comunque signori miei L'episodio sta per concludersi Vado a vendere Questa grande perla Mi faccio big money E nel prossimo episodio Esploreremo Il ponte pepita Facendo anche Qualche bella Cattura interessante Quindi signori miei Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un bel mi piace A commentare A iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social Che trovate in descrizione Rispondete a domande del giorno Che sarà come al solito Qui sotto Qui sotto No Tipo Allora Sì Sotto Sotto la mia facecam Sotto la mia facecam La trovate proprio qui E nulla Vi ricordo che per questo episodio Non ci sono le votazioni Che avverranno nel prossimo E noi ci becchiamo In un prossimo Video